Beard non è stato l'unico uomo a fare simili affermazioni. Eugenio Siragusa, il più famoso dei contattisti con le civiltà extraterrestri, alcuni anni fa fece pubblicare delle informazioni importanti su questo argomento. È vero, certo è verissimo, che sotto la crosta del pianeta esistono due grandi continenti, Agarta e Eldorado. L'entrata principale del continente Agarta si trova al polo nord, mentre quella del continente Eldorado si trova al polo sud. Ambei due i continenti sono comunicanti attraverso tunnel sotterranei, percorsi da mezzi scientificamente e tecnologicamente perfetti. Attualmente nell'Eldorado esiste una feconda collaborazione e una imponente attività al fine di salvare il pianeta da una catastrofe nucleare. La città d'oro è una parte di quel paradiso terrestre perduto dall'umanità e da vita propria, indipendente dalla vita di superficie, alimentata dall'energia di un sole artificiale, emanante luce dorata. Essa si trova nel cuore del pianeta, con una ricca e lussureggiante vegetazione, con laghi e fiumi di acqua cristallina e purissima, con animali mansueti e servizievoli, con edifici confortevoli, tutelati da fantascientifiche strutture di sicurezza contro eventuali atti vandalici dei terrestri e istruiti da dinamismi particolari. Sappiamo che il popolo dell'Eldorado è composto in maggioranza di terrestri, accuratamente scelti, viventi in fraterna comunione con abitanti di altri pianeti, facenti parte della Confederazione. Le coordinazioni di tutte le strutture sociali sono affidate a scienziati, fra i quali figurano l'emminente fisico Ettore Majorana ed altri suoi colleghi, scomparsi misteriosamente dalla superficie della Terra. Con essi operano altri scienziati della Confederazione. Nella città d'Oro non esistono né templi né chiese, non si ufficiano riti né si seguono occulti, poiché la legge, la religione del popolo di Eldorado e ama il prossimo tuo come te stesso. È giusto ricordare l'opera salvifica del grande scienziato siciliano Ettore Majorana, che si adoperò in tutte le maniere per far retrocedere la pericolosissima sperimentazione sull'atomo, iniziata dal suo amico Enrico Fermi. È da ricordare che scomparve misteriosamente nel marzo del 1938. Col passare degli anni le regioni polari sono state studiate anche con l'aiuto dei satelliti artificiali. Nel 1969 il satellite S7 riuscì a fotografare il movimento dinamico dell'apertura polare. Questa apertura si apre progressivamente aumentando di dimensione sino a raggiungere il diametro massimo che corrisponde a circa 2400 chilometri. Ecco quindi come si possono spiegare i miraggi delle terre di Croker e di Bradley, come pure le esperienze dei vari esploratori, non ultima quella dell'ammiraglio Beard. Anche i rilievi effettuati dai satelliti europei ERS-1 ed ERS-2 hanno dato delle conferme notevoli alle foto precedenti. Il computer, elaborando i dati ricavati da sofisticati strumenti, ha mostrato nel polo sud un vero e proprio buco, che non lascia alcun dubbio sulla possibilità di trovare l'entrata verso il mondo sotterraneo. Da tutte le informazioni ricevute possiamo sintetizzare la struttura della Terra come composta da una crosta di spessore di circa 1250 chilometri nella cui parte centrale risiede il magma incandescente. Al centro del pianeta troviamo il sole centrale artificiale che alimenta la vita nei due continenti. Una cosa è certa, il potere di questo regno è inviolabile e tutelato da una scienza e da una tecnica che supera ogni immaginazione. Come ha detto Eugenio Siragusa, Eldorado in un futuro assai prossimo riemergerà dal cuore del pianeta per accogliere il nuovo popolo e la nuova civiltà. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.